Tutti i cittadini che vogliono essere qui vicini alla famiglia hanno portato via un pezzo di noi in questi giorni, un pezzo di Adria, un pezzo del Polesi. È una cosa terribile ed è difficile trovare parole e quindi io mi fermerei già qui. Siamo tutti uniti a Torno a Giulia e alla famiglia di Giulia. Lo vogliamo bene, ci saranno non so quante migliaia di persone. Hanno voluto venire qui per essere vicini e restare vicini in questo momento qui difficile. Io ancora mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno potuto e voluto testimoniare essendo qui oppure anche nel loro paese hanno lasciato dei messaggi a Fratta, a Ligia, a Giorina. Tutta la provincia sta partecipando e vi sta abbracciando anche idealmente. Ci ha messi insieme a camminare i bionni a fianco degli altri, con una fiaccola in mano. Cerchiamo questo, vuol dire, cerchiamo un barco di luce, tragedie come queste, che ci rassino sgomenti, che si ripetono con una frequenza allarmante e questa volta sulla soglia di casa in questa nostra città. Bisogna reagire.